Così come il grande caldo è iniziato già a giugno, anche l'autunno potrebbe arrivare in anticipo. In Toscana si apre un'altra settimana con condizioni meteo incerte e con il timore di nuovi episodi funesti. A due settimane dal primo violento nubifragio, quello di Ferragosto nel Fiorentino, alle carse le ferite sono Lamiata e il Valdarno Aretino, che questo sabato hanno registrato diversi danni. Sul versante senese della montagna le strade si sono trasformate in torrenti dopo una bomba d'acqua che si è abbattuta su Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Nell'Aretino invece qualche albero abbattuto dal vento a Caposelvi e piccoli allegamenti tra Vaccherecce e San Giovanni Valdarno, dove ci sono stati minuti di allarmine per un fulmine che ha colpito e danneggiato un tubo del metano all'esterno di un'abitazione. Per questa domenica l'allerta gialla della regione è stata confermata sulla parte più a sud della costa e sull'isola d'Elba, ma già da questo lunedì sono attesi nuovi temporali a ridosso dell'Appennino, mentre mercoledì una nuova perturbazione dovrebbe attraversare il Gran Ducato, partendo dalle zone di nord-ovest, quelle più duramente colpite dalla bufera di dieci giorni fa. A proposito dei due eventi catastrofici della settimana scorsa, si attende ancora il pronunciamento del governo sullo stato d'emergenza nazionale chiesto dalla giunta regionale, che sarà esaminato nel primo consiglio dei ministri in programma dopo le ferie.